Miglioramento delle relazioni sociali e lavorative, gestione dei sintomi e prevenzione del deterioramento cognitivo sono gli obiettivi del reparto di degenza psichiatrica dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti. Il reparto inaugurato recentemente conta 5 posti letto destinati a diventare 15 e guidato dal direttore del Dipartimento di Salute Mentale, il professor Massimo Di Gian Antonio. Potranno accedervi i pazienti ricoverati su proposta dei medici di medicina generale, dei servizi psichiatrici territoriali, del pronto soccorso e del 118, oltre a quelli sottoposti a TSO, trattamento sanitario obbligatorio. Per quanto riguarda l'innovazione farmacoterapeutica, ha spiegato il professor Di Gian Antonio, vengono utilizzati gli ultimi ritrovati della ricerca internazionale in tema di farmaci antipsicotici e antidepressivi. Sono nuove classi di farmaci che hanno un effetto terapeutico più immediato, hanno un crollo degli effetti collaterali, è una biodisponibilità che non dà problemi epatici né renali e che garantisce una vita sociale priva di tutte le controindicazioni tipiche dei farmaci di prima scelta. Un reparto a direzione universitaria che mette a servizio dei pazienti sono tutti i dati della ricerca universitaria che vengono dalla collaborazione con l'ITAB dell'Università d'Annunzio, soltanto in altri quattro luoghi europei. C'è questo tipo di disponibilità scientifica e tecnologica, quindi il reparto si pone all'avanguardia nel trattamento dei disturbi psichiatrici in Abruzzo.